Tutti quanti conosciamo l'importanza di un sano e armonico sviluppo psichico nell'età che va dall'infanzia fino all'adolescenza, soprattutto per lo sviluppo di quello che sarà l'adulto del futuro. Questo risultato, che tutti noi possiamo vedere, emerge anche da un studio che è stato fatto dall'autorità garante per l'infanzia e dell'adolescenza, che è terminato nel 2018. Nell'evidenziare l'importanza chiave di questo periodo per lo sviluppo dell'adulto sono emerse però anche delle criticità che possiamo rilevare anche in Toscana. Le criticità maggiore investono innanzitutto quella che è la presa in carico e la risposta alla problematica che vengono portate dai bambini e dagli adolescenti. Abbiamo visto infatti che spesso il periodo appunto di presa in carico è molto lungo. Molto brevemente ci sono delle liste di attesa lunghe e spesso tra la prima visita e una seconda passa molto tempo, addirittura delle volte sei mesi per arrivare fino a un anno. E questo naturalmente non può essere accettabile quando si tratta di un argomento così delicato e di problematiche come disturbi dello spettro autistico, disturbi psicofisici, cognitivi o altro, che richiedono un'attenzione costante e una cura molto attenta. È importante perciò, e questo lo abbiamo segnalato con una mozione alla Regione Toscana, in particolare al nostro assessorato, che siano rivisti i meccanismi di recluttamento e selezione del personale, perché venga scelto del personale adeguato e ben formato a svolgere questo complesso e delicatissimo compito. È necessario poi ottimizzare le risorse per cercare di destinarne di più a questo importantissimo settore che ricordiamolo è territoriale, quindi deve essere diffuso in maniera omogenea in tutta la Regione. È importante poi cercare di ottimizzare e migliorare il coordinamento tra tutti gli operatori del settore. E riguarda non soltanto gli operatori sanitari, ma anche quelli della scuola, l'autorità geniziaria e i genitori, le famiglie stesse, che devono essere maggiormente coinvolte all'interno di questo complesso progetto che può richiedere lungo tempo, ma che sicuramente poi porterà benefici non soltanto per il bambino, ma per tutta la collettività. Questo per noi è uno dei motivi principali per cui l'attenzione sulla salute mentale e il benessere emotivo del bambino e dell'adolescente non deve essere mai, e dico mai, trascurata.